Arrivano i rinforzi, 30 militari saranno equamente distribuiti a Como e Trieste. Saranno operativi dal prossimo 16 aprile così da rafforzare la vigilanza e il controllo del territorio. Lo fa sapere il Viminale che ha recepito le richieste arrivate dalle due province, le uniche due a livello italiano, ad aver ottenuto l'invio di forze straordinarie dell'esercito per compiti operativi di presidio del territorio. 15 uomini dunque arriveranno a Trieste, orgogliosi di passare dalle parole ai fatti, soddisfacendo le richieste del territorio, commenta il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Un annuncio che aspettavamo con ansia sin dall'incontro con il prefetto di pochi giorni fa, ha spiegato l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. I 15 militari che arriveranno a Trieste assegnati alla questura avranno il compito di sgravare le forze dell'ordine dai tanti impegni quotidiani, ma il loro arrivo è chiaramente collegato soprattutto alla questione migranti, il probabile aumento dei flussi con l'arrivo della stagione calda, ha consigliato il ministero a questo rinforzo straordinario degli organici, volto a fornire un primo contributo concreto alla sicurezza del territorio e al presidio della fascia confinaria.